ciao e benvenuto in questo video ti mostrerò come installare le immagini dentro a even ng perché un utente sul gruppo di telegram ha provato e benché abbia scelto peraltro la versione professional che non è gratuita differentemente da quanto è la community e non riesce a caricare le immagini e effettivamente even ng di primo acchitto sinceramente non è la cosa più semplice del mondo da capire vediamo un attimo allora intanto facciamo che questa pagina qui la trovi poi in descrizione qui ci sono tutti gli appliance tutte le immagini supportate da even ng che sono veramente tante c'è anche tutto vmware windows tutto tutto linux partiamo e quello che ti sto facendo vedere adesso è valido per qualsiasi immagine noi andremo a installare questa immagine qui perché se nel mio even ng ho già questo allora intanto qui con il tasto destro se io vado su node vedi che io ce l'ho qui già blu perché alcuni alcune immagini io le ho già nel mio even ng ok detto questo bisogna trovare questa immagine per trovare questa immagine basta che selezioni questo questo nome fai copia vai su google e scrivi download e incolli questo se non è il primo link il secondo comunque ti ci porta poi una volta fatto questo vedrai che arriverai a questa pagina qui per esempio dove c'è questa versione qui che deve essere esattamente quella che è descritta da even ng cioè guardiamo un po 124 dash 23 punto bin 124 dash 23 punto pin quindi la nostra vai e la scarichiamo a questo punto questo lo chiudiamo non ci serve più questo punto dobbiamo aprire questo programma scusatemi ho fatto l'update un secondo solo che è win scp intanto ci metto un attimo a scaricarlo facciamo un secondo l'aggiornamento allora perché se non non viene fatto l'aggiornamento questo software non funziona cioè nel senso quando l'aggiornamento viene richiesto ma comunque velocissimo quasi fatto ok allora 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 guardate che 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 si apre sul sul primo monitor invece che sul secondo e non lo posso spostare vabbè ora comunque lo faccio vedere allora allora una volta che avete aperto questo software si presenta con una finestrella dove dice digitare indirizzi ip e sarà quello della vostra macchina even ng in questo caso la mia 192 168 0 19 la vostra sicuramente poi fate login username root e password eve scritto eve bene ora non ci resta altro che seguire queste piccole istruzioni qui allora bisogna aprire patti bisogna aprire patti 100 a per patti bisogna andare qui su ssh e k e x selezionare il primo e portatelo in fondo poi dopo torniamo su sessione 192 168 punto 0 punto abbiamo detto 19 qui ti chiede login quindi root eve e invio ok a questo punto diciamo che abbiamo tutto allora lui diceva di fare una directory noi possiamo anche seguire tutti quello che dice fate il copia e incolla molto semplicemente poi scrivete poi dopo scusatemi poi dopo bisogna andare qui su win sp e andare su la radice che dentro linux viene chiamata root e vediamo se c'è questo directory che si chiama abc che è quella che abbiamo creato quindi indietro indietro una volta che vediamo tutte queste cartelle scegliamo root e qui vediamo che abbiamo la nostra cartellina abc che abbiamo creato precedentemente e noi andiamo qui poi a questo punto prendiamo il file che abbiamo scaricato lo so sembra un po' macchinoso even g ma ma vale allora eccolo qui e io lo copio qui la voglio un attimo che lo trasferisce poi lo chiudo e questo lo metto qui da una parte torniamo qui e scriviamo quello che c'è scritto qui cd abc invio poi prendo questo semplicemente lo copio e lo incollo e premo invio poi dopo anche qui seleziono questo questo è move mv sta per move questa immagine in questa directory e invio poi dopo scrivo qui cd spazio punto punto e con questo qui io gli rimuovo la directory che ho creato prima perché non ne abbiamo più bisogno poi fix permission questo sempre e voilà ne la voglio un attimo questo serve per calcolare l'idol del pc ma del router ma al momento non ci serve questa non ci serve più e sinceramente non ci serve più neanche questo qui sì adesso andiamo a vedere vado su node vado su sisco che eccolo qui vedi me lo darà sisco 1710 qui poi volendo se avessi più di un modello del 1700 ho più immagini e questo qui io premo save ecco il router e facciamolo partire vediamo se parte e click si apre la console facciamo ripare il boot ma guarda com'è veloce rispetto all'altro e e voilà guardiamo un po' che interfaccia ci da enable show run guardiamo un pochetto e abbiamo la nostra interfaccia e la nostra interfaccia Ethernet e fast Ethernet perché molto probabilmente anzi sicuramente perché non l'ho fatto gli va ha fatto questa cosa qua edit qui guardiamo un po' perché sull'altro c'è su questo non lo so perché è piccolino no non c'è la scelta dell'interfaccia ok sul modello sul modello per esempio l'altro e poi concludo il video su questo c'è la possibilità di selezionare l'interfaccia vedi slot 1 e slot 2 16 switch interface che è per fare lo switch oppure una e due interfacce questo è già un po' più grosso cioè come modello è serie 3007 quindi è un po' più grosso però l'altro che è più piccolo ha anche minori richieste spero che questo video sia stato utile sia all'utente del gruppo Telegram che a tutti ovviamente gli utenti che vogliono e cercano di configurare Evening e non sanno come fare perché ripeto all'inizio non è molto facile comunque come avete visto con alcuni passaggi è possibile farlo ricordo che sotto il video in descrizione trovi il link con tutte le appliance supportate da Evening e come installarli e per scaricarli come ho già detto in precedenza basta andare su Google scrivete download e il nome dell'immagine e il gioco è fatto ti ringrazio per guardare questo video e al prossimo e al prossimo